Finalmente FIFA 17 è arrivato e tu meriti solamente il meglio per i tuoi crediti. IG Volt, il sito che la consegna più veloce al mondo. Passa in descrizione per il link e codice sconto del 6%. Intanto scusate la felpa, ma sono un po' influenzato e ho molto freddo. Poi per una volta voglio iniziare un video della carriera in maniera un attimo critica. Che poi in realtà non è niente di che, ma ci tengo a farvi sapere anche quello che ho pensato io. Il primo episodio non ha riscosso tantissimo successo perché qualcuno ha detto che non è stato soddisfatto. Sono arrivati Rashford, Piazza e Niang, però tutti e tre in prestito, senza diritto di riscatto. Nel secondo episodio invece ho comprato giocatori miei. Donnarumma, Rugani, Romagnoli, De Sciglio e Chisina. Il mio ragionamento è stato veramente molto semplice. Intanto ho voluto creare una base solida italiana. Di nostra proprietà al momento abbiamo il portiere, i due centrali di difesa, il terzino e Berardi. Che però sono 5, non so perché ho fatto 6. In più abbiamo preso in prestito la Juve sia Sturaro che Mattiello. Abbiamo anche qualche giovane a centrocampo già di nostra proprietà. E in più abbiamo acquistato Gnoguri. Insomma, i giocatori nostri sono tanti comunque. E poi diciamoci la verità, è molto più difficile trovare dei giocatori italiani forti all'interno della retroguardia. Nel senso che, a parte Rugani e Romagnoli, non ci sono tantissimi altri giocatori pronti italiani e giovani. Stessa cosa per gli esterni di difesa. È per questo che ho voluto puntare tantissimo sulla difesa investendo tanti soldi sulla difesa. L'anno scorso mi sono trovato in difficoltà perché non ero messo molto bene lì dietro. E invece davanti ci sono tanti, tanti, tanti giocatori che si possono acquistare. Kishne e Berardi saranno assolutamente due titolari. Sono miei. Giochiamo comunque con quattro attaccanti, quindi qualcuno riesce sempre a giocare anche di quelli in prestito. Anche se sto pensando di passare un centrocampo a tre e un attacco a tre. Quindi un classico 4-3-3. Questo è solamente per spiegarvi quello che ho pensato io. Che sia giusto o sbagliato non lo so, ma volevo impostarla così. E inoltre il mercato è ancora aperto. C'è un'ultima giornata e voglio provare a fare un ultimo colpo in prestito magari con il diritto di riscatto. Come al solito vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale. Quale non lo resta ancora fatto per supportarmi all'interno del mio lavoro e della carriera. E come in ogni episodio che si rispetti salutiamo l'ultimo like su Instagram. Che tra l'altro aperto a parentesi abbiamo raggiunto e superato i 10.000 seguaci. Bello bello. L'ultimo like su Instagram è di Francesco Leo. Ciao Francesco, grazie per aver messo un mi piace alla mia ultima foto. Come potrebbe essere Marziale in prestito a due anni e 30 milioni per il riscatto. Stessa formula che propongo all'Inter per Mauro Riccardi. Ho già avuto i Cardi nella scorsa carriera e me ne ero innamorato. Purtroppo poi un'offerta da 60 milioni di euro mi ha fatto cambiare idea. Oppure potrebbe essere anche Alvarito Morata. Anche se devo essere sincero, se voglio un giocatore su tutti è Stefano Isharawi. Soprattutto perché è italiano. Berardi da una parte e Isharawi dall'altra. Mica male. Come vi dicevo ho deciso di passare al 4-3-3 per far giocare tutti i miei centrocampisti giovani e di qualità. In panchina teniamo due come Sturaro e Duncan, quindi mica niente. Oltre a Capitan Magnanelli che purtroppo va in tribuna. Direi che è la formula perfetta, pronti ad entrare Nyang e Politano e a cambiare la partita. Un po' come faceva Munir. La classifica non è male, abbiamo giocato una partita e l'abbiamo vinta. 1-0, gol di Rashford contro il Palermo. Oggi c'è il Pescara e facciamogli vedere di cosa siamo capaci. La formazione l'abbiamo appena vista, direi di far giocare queste qui con Capitan Rugani. Sono contento, è veramente bella. Tanti giovani e tanti italiani. Debuttano dei giocatori come Kishina e Rugani, comprati tutti e due in tutto per 25 milioni di euro. I soldini ne abbiamo spesi, eh. Grande Capitano, fai vedere di cosa sei capace, fai vedere che vuoi alzare le coppe. Devo dire che è abbastanza complicato giocare a difficoltà campione in FIFA 17. Pensavo molto, molto meglio. Ero molto più bravo a FIFA 16. Attenzione, Caprari è in area, ok, portiamolo fuori. Gianluca Caprari, pericoloso il tiro. Parata di Donnarumma. Kishina, ancora lui, dentro per Ngoguri. Ngoguri chiama in causa, Rashford ha tagliato, Rashford è in area, è pericoloso. Il tiro di Rashford, la parata. Prima occasione utile per il sassuolo. Sempre con Marcus Rashford. Piazza dalla bandina, proviamo a fare il calcio d'angolo buggato. Attenzione, sul primo palo, Kishina, il tiro di Kishina. Kishina con le mani da Piazza. Piazza, oddio che cosa ho fatto, perché Kishina è andato di là? Sensi, attenzione, dentro per Rashford, che si appoggia a Ngoguri. Attenzione, largo per Piazza. Piazza adesso può metterla con il suo destro. Molto bene, calcio d'angolo. Ancora una volta, cerchiamo di battere così. Questa volta c'è Rashford, che tira di testa. Bella palla messa dentro, Rugani la mette fuori. Sensi allontana, la palla che è ancora lì. Attenzione, ehi, non è fallo? Signore direttore, è per terra il nostro, il tiro. Oddio, no, ci ha fatto gol il Pescara, ma era fallo clamoroso. Era fallo clamoroso? Come fanno a non fischiarlo? Chi è che ci ha fatto gol, poi, tra l'altro? Un fallo clamoroso, ma come fai? Attenzione, Verre, ancora pericoloso il Pescara. Il tiro, calcio d'angolo. Ngoguri, con la testa, va a saltare. C'è senso, attenzione, dentro per Rashford. Rashford, ancora lui, vuole allargare il gioco su Ngoguri. Ngoguri, chiama in causa anche Riccardo Kishina. Il nostro uomo più pericoloso, attenzione. Kishina, ancora lui, vuole mettere la palla dentro. Per Piazza, Piazza. Verticalizza, cercare Rashford, si appoggia di prima. Kishina, attenzione, Kishina può partire. Kishina è partito, Kishina, ancora lui. Kishina, riprendila. Simone Pepe, uno degli uomini più pericolosi del Pescara. Attenzione, ancora Simone Pepe, va sul fondo. Pepe vuole rientrare, mette una gran palla per Caprari. Caprari, Verre, Pepe, quanti attaccanti ha il Pescara? Con la testa, bellissima palla. Oddio, bravo Gigio Donnarumma. Il tiro, la palla, ancora lì. Allontaniamola in qualche modo. Cos'è, calcio di rigore davvero? Ma ha fischiato tutto, ha fatto tutto il computer. Non dipende da me, direttore, non puoi. Direttore, non puoi. Ma per co... Eh, vabbè, ma è Donnarumma. Che palle. Che palle, davvero. Simone Pepe sul dischetto del rigore contro Donnarumma. Pepe, ancora lui. Donnarumma, devi pararlo. A Simone Pepe glielo pariamo. Me lo sento. Il tiro! Davvero? Ho preso gol da Simone Pepe sul rigore col cucchiaio. È successa una cosa del genere. Fatemelo rivedere, vi prego. Voglio incassarmi. Voglio incassarmi. Voglio veramente arrabbiarmi. Simone Pepe. Dal dischetto. Preparare in corsa. E gli fa il cucchiaio. Gli ha fatto il cucchiaio. A Donnarumma. Altro che pelle e noire. Mattiello, attenzione. Si propone dentro un altro giocatore del Sassuolo. È proprio Riccardo Chisina. Chisina va sul fondo. La mette. Non c'è Rashford. Dov'è Rashford? Qualcuno di voi mi ha detto di provare il 4-2-4 perché con questa squadra è l'ideale. Voglio dargli retta. Zampano, ancora in buona posizione. Zampano, sempre lui. Dentro, attenzione. Cercare Simone Pepe. Io ve l'avevo detto. Simone Pepe. Pericolosissimo. Zampano. Non riesco mai a prendere il pallone. Com'è possibile? Dentro. Attenzione. Pescara pericoloso il tiro. Eh vabbè ma al 3-0 no. Eh vabbè ma al 3-0 no. Come faccio a perdere 3-0 col Pescara? Brian Cristante. 3-0 dal Pescara sto prendendo. Non ci credo proprio. Non ci credo proprio. Mi fa piede e perno come nel basket. Donnarumma non ci arriva. De Sciglio batte la punizione. Attenzione. Sì vabbè ma non puoi fare questi passaggi. Non mi puoi fare questi passaggi che prendo i contropiedi. Cioè non è proprio possibile. Poi prendo il Tiki. Tacca dal Pescara. Guardate non riesco mai a prendere il pallone. Caprari. Dentro. Mattiello. Non ci arriva. La palla è ancora lì. Attenzione guardate. Adesso tiro e ne fanno gol. Il tiro. Entrano in aria. Tiro. Oh la parata. Grande Donnarumma. Attenzione. Rush for the Niang. Che adesso vanno in duetto. Dentro. Kishnar. Cos'è? Cos'è c'è? Cosa succede? Chi è che si è fatto male? Pellegrini. Perfetto. Ottimo. Duncan. Dentro per Rush for. Si appoggia. Ancora. Ancora Rush for. Dentro. Per Kishnar. Kishnar vuole andare sul fondo. Ancora Kishnar. Fa la finta di mettere nel mezzo. E poi la mette davvero. Per piazza. Niang. Si ferma. Niang. La mette. Per Duncan. Ancora Niang. Dentro. Ancora di prima. Per Rush for. Che non la tocca. Non la tocca. Ancora Caprari. La mette dentro. Attenzione. La stoppa. Benali. Non ci arriva. Possiamo ripartire noi. Il novantesimo però tanto. Quindi potremmo solamente fare un gol della bandiera. Vediamo se ci riusciamo. Kishnar. Riesce a tenere questa palla. Dopo un bel cambio campo. Ancora Kishnar. Kishnar. In buona posizione. Dentro per Niang. Che si allarga. Per piazza il tiro. La para ancora Bizzarri. Vediamo se riusciamo a fare questo gol. Brutto. Brutto così. Niang. Niang. Tra zero. Finita. Perso. Demoliti dal Pescara. C'è ancora qualcosa che non va. Non mi va bene iniziare così la carriera. Non mi va bene. Intanto abbiamo un'offerta per Davide Biondini. E credo proprio che l'accetterò. No dai. Un po' di più vari per favore. Dammi un milione almeno. Attenzione perché siamo nell'ultimo giorno di mercato. Abbiamo cinque email. Non sono intenzionati a cedere il Sharawi. Non sono intenzionati a cedere Morata. Non sono intenzionati a cedere Teves. Non sono intenzionati a cedere Martial. Non sono intenzionati a cedere Icardi. Io ci riprovo magari con solamente un anno. 775 mila euro per Biondini. Emo. Tirchi maledetti. Ancora niente Morata. Ancora niente Teves. Ancora niente Marziale. Ancora niente Icardi. Ti do Duncan per Icardi. Che cosa ti devo dare? Va bene. Ti do 40 milioni fra un anno per Icardi. Proviamo così. Nessuno. Insomma non riesco a prenderli col diritto di riscatto. Solo così per sfizio. Provo a vedere se Icardi per Berardi ci state. Alla pari. Voglio solo vedere cosa succede. Così. Non sono interessati a Berardi addirittura. Non ci posso credere. Anche per Marziale e anche per Morata. Voglio vedere alla pari. Dai. 4 ore alla fine del mercato che sicuramente chiuderà male per noi. Terremo i soldi per gennaio. Il giocatore si è appena trasferito e quindi niente. E lo United? Oh oddio. Oddio. Marziale Berardi alla pari. Oddio. Oddio. Questa cosa mi fa tentennare e non poco. Intanto guardiamo perché il Napoli non è interessato a Duncan ma magari è interessato a Politano. Provo a fargli l'offerta. E poi vediamo che cosa succede. 3 ore al termine del mercato e potrebbe succedere qualcosa di clamoroso. Marziale ha rifiutato l'offerta intanto. Io provo a darti 110 che è quello che mi chiedi e 4 anni di contratto e giocatore chiave prima squadra. Vediamo. Ultime due ore di mercato. Vediamo come finisce. Marziale ha rifiutato e il Napoli ha rifiutato. Direi che rimarremo così. E finisce qua il mercato ragazzi. È finito così. Nessun compor sorpresa per noi nello scadere del gong. Terremo i soldi e prenderemo Saponara che è in scadenza di contratto magari a gennaio. Intanto Berardi è guarito. E quindi mi dispiace Marco piazza ma vai a far la panchina perché è tornato il capitano. Beh ragazzi c'è subito Sassuolo Juventus. Io lo vado a giocare ma ho veramente tanta tanta paura di come potrà finire. Berardi è ancora livemente infortunato ma ho deciso di farlo giocare comunque. Tanti giocatori in prestito ma solamente Rashford non è di mia proprietà in questa formazione. Allora io di solito contro le grandi faccio delle belle partite e poi perdo 3-0 col Pescara. Vediamo se riuscirà a succedere anche oggi con la Juve. Rashford si appoggia molto molto male Rashford. Kishna arriva sul fondo. Si gira. La crossa brutta. Per Berardi che può fare la torre. Apre tutto. C'è Mattiello. Rashford la viene a prendere. Si appoggia ancora Mattiello. Dentro per Kishna. Kishna sul fondo. La mette per De Sciglio che non riesce a tirare. E se riparte Obama Young insieme a Dybala potrebbe essere veramente un problema. Rashford si appoggia. Ha sensi. Rashford non sa appoggiare la palla ragazzi. C'è sensi. Attenzione. Dentro per Kishna. Bello sempre il taglio di Kishna. Mi piace un sacco. Rashford ancora per Kishna. Dentro per Nghioguri che si propone. Nghioguri la mette per il compagno. Ancora una volta per Riccardo Kishna. Che c'è? Attenzione. Ha visto il taglio di Berardi. Lo serve Kishna. Berardi è entrato in area. Lo stop. E il tiro di destro. Perché di destro che sei mancino? Ancora Kishna. In buona posizione. Dentro per Rashford. Attenzione. Possiamo sfondare. Dobbiamo aspettare gli nostri effettivi però. 1-2. Consensi. Dentro. Per Rashford. In area. Il tiro di Rashford. Buffon. Voglio passare al 4-3-1-2. Questo qua. Guardate. Vediamo se riusciamo a fare una cosa fatta bene. Proviamo a vedere così come va. Domenico Berardi. Adesso più nel vivo del gioco. Perché da seconda punta. Berardi dentro per Rashford. Non ci arriva. C'è Nghioguri. Fa spallate. Dentro. Per Kishna. Il tiro di Kishna. Oddio mio. Siamo partiti bene adesso. C'è Berardi che la ruba. Possiamo ripartire. Consensi. Attenzione. Sensi. Berardi e Rashford. Sono loro che orchestrano. Dentro. Per Rashford. Che la stoppa male. Però dopo si riesce ad appoggiare a Riccardo Kishna. E poi dentro per Nghioguri. Che adesso la mezzala può fare quello che vuole. Ancora Kishna. Da regista. Puro. Kishna è importantissimo in questo momento. Però sbagliano gli altri. Sensi è stanco. Dovrà essere sostituito da Stefano Sturaro. E poi non mi è piaciuto Rashford. Dentro Nghiog. E forse anche piazza fra un po'. Palla dentro. Per il mio paulito di bala. Che mi ha regalato tante soddisfazioni. Per fortuna ha tirato male. Appoggiamo. Così. Molto bene. Possiamo giocare la palla adesso. Dentro. Verticalizzazione per Nghioguri. Tocca il suo primo pallone. Attenzione. C'è Berardi. Berardi può andare. Berardi ce l'ha anche sul mancino. Berardi. Il tiro di Berardi. La palla che è parata da Buffon. Il tiro ancora Buffon. Ancora Kishina. Allarga tutto. Il gioco. Gran palla di Kishina per Pellegrini. Adesso si è staccato Berardi. Possiamo darla dentro a Berardi. Pellegrini fai qualcosa. L'hai batta malissimo. Sì Berardi. Fai andare Nghiang. Gran palla. Nghiang. Adesso accelera. Più veloce di tutti. Nghiang. Con il fisico. Rimane su. Nghiang. Il tiro e gol di Nghiang. Vai e Nghiang. Che palla di Berardi. Abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Nghiang. Berardi. E dietro Kishina. Mamma mia. Che bella palla. Che brutta cappella di Barzagli e Benati ha. E poi Nghiang davanti a Buffon. Non sbaglia. Rashford ha fatto schifo. È entrato Nghiang. E per adesso la sta risolvendo. Per adesso. Guardate Gnoguri e Pellegrini. Non ne hanno davvero proprio più. Dentro Alfred Duncan. Duncan. Appena entrato. È fresco. Nghiang si appoggia molto bene. Kishina. Attenzione. C'è Berardi. Possiamo ripartire noi allora. Vai. Vai Domenico. Vai Domenico Capitano. Vai dalla bandierina. Tienila lì. Sta finendo. È il novantesimo. È scoccato adesso il novantesimo. Ancora Berardi. Dentro. Perde Sciglio. Che va fuori. Da Duncan. Il tiro di Duncan. Appena entrato. Deviato. Non è calcio d'angolo. Non è calcio d'angolo. Finisce qui ragazzi. Abbiamo vinto 1-0. Abbiamo perso 3-0 col Pescara. Abbiamo vinto 1-0 con la Juve. La logica dov'è? E adesso che ci penso. 3-0 col Pescara. È colpa di Ragusa. Nella foga di iniziare. Non avevo ancora fatto neanche un allenamento. Simuliamoli tutti subito. Che così qualcuno cresce. C'è subito una partita d'Europa League ragazzi. E qua bisognerà fare un po' di turnover. Intanto vi faccio vedere la squadra titolare del momento. E la cosa che più mi piace è che su 11 giocatori ben 8 sono italiani. Questo Sassuolo sta iniziando bene. Sono abbastanza soddisfatto. Però il 3-0 col Pescara. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice. E iscrivervi al mio canale qualora non lo resta ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Che vi va molto presto. Ciao ragazzi. Dritto per dritto. Oh baby I like it more. Yeah baby I like it more.